Ciao a tutti ragazzi, più è Cristian Dragone e benvenuti in questo primo episodio sulle Custom Map Oggi siamo qua in questa Custom Map chiamata L'Osservatore Ovviamente tutti quanti i diritti sono a lui, vi lascio il download della mappa però in descrizione Ok, cominciamo Regole e storia, prendiamo i libretti L'Osservatore e Regole Leggiamo prima le Regole Regole, non utilizzare mod, non rompere blocchi a meno che non ti viene chiesto e leggi tutti i cartelli Storia Ciao, puoi chiamarmi l'Osservatore, sono colui che osserva le abilità delle persone per poi utilizzarle per i miei scopi Se riuscirai a attraversare tutte le prove a cui ti sottoporrò, sarai il mio schiavo Se non ci riuscirai, vorrà dire che sarai morto Wow Fanno comodo, prendi solo un set Ok, prendiamo un set Ok, c'è un bel po' di roba Una spada e del cibo Perfetto Cominciamo Andiamo Andiamo, andiamo Prova 1 Combattimento Tira la leva Ok, oddio Non me lo sarei aspettato, anzi sì, me lo sarei aspettato Bugia, bugia, bugia Sto giocando in modalità facile Quindi, boh Pacifico ovviamente no Ok, l'ultimo, l'ultimo Perfetto Mica se vado lì e escono gli altri, no? Non penso Vediamo Ok, no E solo una ondata E che ce fai qui? Ok, muori Andiamo avanti Una cassa Una spada Ok Altri mob Ragni, creeper Oddio Aiuto, aiuto Menomale Hanno pensato tutto loro Scheletri Ok, dai Mangiamo Credo di aver finito la prima prova, però non lo so Saliamo Complimenti Hai superato la prima prova Non saranno tutte così facili Seconda prova Vista Interessante E dai, questo pulsante Ok Ah, hai capito Cioè, c'è un Pavimento esclusivamente di vetro Con dei forellini Come si dice Con dei buchi E te devi Siccome il vetro è trasparente Devi cercare di Arrivare alla porta E non cadere giù Però è facile Insomma Bisognerebbe Premere shift Come sto facendo adesso E boh Un po' di prudenza Ovviamente bisognava anche Schivare Ste Ste cascate di lava Ok Qua sta una porta Niente Niente leve Niente pulsanti Oddio E mo? Dove se va? Allora qua Non penso C'è la lava E un po' Hai capito C'è una Una pedana lì Come faccio? Proviamoci Dai Sì Leva Ma meno male Ok Ragazzi Sei stato bravo Ti merito un bel riposino Prendi solo Un set In caso di morire No vabbè Sono vivo Ok Dormiamo Ok dai Dormi Dormi Perfetto Nuovo giorno Nuova vita Nuovo libro Ok leggiamo Complimenti Ti sta dimostrando Una vera abilità Mi sa proprio Che sei la persona giusta Per i miei scopi Continua ad andare avanti Sarai degno Solo se riuscirei a raggiungermi Perfetto Un'altra cassa Con Carrelli da miniera Ne prendo due Ma non si sa mai Non penso che Vanno presi tutti Quindi Facciamo un po' di ordine Nell'inventario Ok bene Andiamo No Ok Mettiamo un altro Si parte di qua Perfetto Vai No ok Quarta prova Agilità No Beh Boh Proviamoci Ok Mi sento già di morire Allora Vado di qua Vado di qua Vado di qua Vado di qua Il fuoco Ok Non dovrei morire Se vado Ci sto ragionando Un po' su Se andare sopra o sotto Fammi un po' andare a vedere Allora Se vado giù Il salto di qui Potrebbe essere Puro possibile Però Bisogna andare lì Boh Proviamo giù Ok dai Vorrebbe Essere Andata bene Io vi do già un cartello E adesso Forse ho sbagliato strada Ecco Lo sapevo Allora Di sotto c'è Dell'acqua Dai Io ci provo Ma vaffancavo Ok Almeno Rinasco di qui Dai Prendiamo di nuovo il set Perché sono morto Sono troppo deficiente Dovevo prendere Dovevo fare l'altra strada Dai Continuiamo Vabbè Qui c'erano i libri Ah qui c'erano i libri Quelli che avevo perso E Andiamo Qui c'erano Ok Andiamo Ok Quarta prova agilità Andiamo Andiamo Che cavolo Ho Ho sbagliato Spero se vado in là No 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 Non si può 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 Sì Che cavolo Sì Ce l'ho fatta Ragazzi ce l'ho fatta Incredibile Ok La freccia indica di qua Andiamo Andiamo Prendiamo Altro carrello Anche se piace l'ho Però fa niente Andiamo Quarta prova Fiato Buona fortuna Tagliamo Oddio Non si vede niente Forse Ok di qua prendo fiato Dai buono Andiamo Andiamo Vedere Non vedo niente Andiamo 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 Ok metto la Ok non si vede niente forse ce l'ho fatta sono tornato indietro dai ripartiamo allora qui non ce l'ho andato andiamo a destra sinistra, destra, andiamo a sinistra porta è sì no, sì